Napoli è un osservatorio speciale, è sempre stato un laboratorio di strane situazioni che poi vanno come anche la Sicilia, un laboratorio politico la Sicilia, però quello che è successo di cui parleremo dopo a Napoli però è interessante. Io ho detto in apertura che se uno pensa che ci sia solo la camorra che c'era, se pensa che ci saranno solo dei criminali abituali e c'erano, fa però un errore perché io ho visto molti commercianti con gli occhi pieni di lacrime perché dicevano noi non ce la facciamo più ad andare avanti, se ci chiudono ancora questa volta non so cosa darò da mangiare ai miei figli. Io è su questo che vorrei dire, questo è il punto centrale, è un sistema Italia, non si può abbattere, se uno ha le palle deve resistere a questa situazione perché è troppo facile e chiudo tutto. Io sono arrivato, l'ho detto anche a febbraio, il virus dell'economia è molto più terribile, molto più terribile e lo dico con rispetto perché io le bare di Bergamo ce l'ho qui, in Valseriana siamo stati noi con una giornalista bravissima che ha combattuto e ci ha raccontato quello che altri non volevano che noi raccontassimo. L'abbiamo raccontato, quindi io sono uno di quelli che non mi metto le bende sugli occhi, però dico che un mondo occidentale così debole io francamente non lo seguo. De Magistris. Guardi, io ho ascoltato molto con attenzione la sua introduzione e la condivido e voglio anche premettere che io sono ottimista anche quando sembra tutto impossibile e sono convinto che Napoli come l'Italia ce la faranno rimanendo uniti e coesi. Ma oggi io sono più preoccupato di marzo e aprile perché marzo e aprile l'Italia veniva da un periodo, parlo della mia città, molto forte, una città in crescita, cultura, turismo, economia circolare, commercio, artigianato, giovani e quindi c'era un po' di riserve in cantina, mettiamola in questo modo. Adesso io vedo una comunità fragile sul piano psicologico, stremata, depressa, imprenditori sfiduciati, giovani che perdono il lavoro, un disagio sociale crescente e chi dà giudizi frettolosi su quello che è accaduto l'altro giorno non ha capito nulla. Napoli nel bene e nel mare è una polveriera, è una pentola a pressione, bisogna stare in quel corpo. L'altro giorno c'erano, e già questo allarma, perché era in pieno coprifuoco, c'erano migliaia di persone che protestavano in maniera assolutamente civile, all'inizio non pacifica, c'erano giovani, bar, studenti, commerciali, c'era di tutto. Poi, come da tempo ho sottolineato nei luoghi istituzionali e pubblici, in questo momento di esasperazione è assolutamente prevedibile che frange violente e anche criminali si vadano a infiltrare per strumentalizzare il disagio sociale e il cosiddetto contagio criminale. Poi se vuole su questo ci ritorniamo dopo, perché ci sono delle considerazioni... Comunque dobbiamo stare molto attenti, anche nel dare messaggi, condivido molto quello che lei ha detto all'inizio. Adesso bisogna unire rigore e responsabilità, ma anche fiducia e sensibilità di un Paese che deve ritrovare la forza di resistere a una stata d'urto di edificio. Io non voglio fare polemiche con il governatore De Luca, però sinceramente avere un governatore che tira fuori una lastra di un ragazzo, sono messaggi molto pesanti. Proprio la morte la vedi così e uno vede una male e inizia... Non è questo il linguaggio che bisogna usare. Secondo me non è questo. Quello linguaggio turba molto e diciamo che al di là del merito dei provvedimenti c'è un abisso tra la comunicazione del Presidente del Consiglio, poi si può condividere o meno alcune cose e appunto del Presidente della Regione. Adesso è il momento in cui la violenza del messaggio deve essere bandita, perché quello è solo terrorismo, allarmismo e poi ci torniamo, perché gli eventi di venerdì sono stati esattamente preceduti da alcune cose delle quali stiamo parlando. Su questo ci vorrei ritornare perché sono stato testimone di un comitato... Ci torniamo, Sallusti, adesso andiamo su un'altra...